E comunque pensare sempre che ci sono degli obiettivi a breve, media e lunga scadenza e che abbiamo progettato comunque un programma che bisogna lavorare per poter costruire qualcosa di importante quindi non abbiamo niente pronto ma stiamo lavorando per trovare qualcosa di importante. Questo non vuol dire che non dobbiamo guardare i risultati e tutt'altro e domani abbiamo solo concordo, concordo col fatto che dobbiamo vincere e vogliamo vincere tutti non credo che c'è qualcuno di noi che non voglia vincere e io per primo abbiamo tutti bisogno di questa vittoria per poter lavorare meglio però bisogna lasciare la squadra senza pressioni la pressione dei risultati è importante ma si è una pressione positiva Sì, spesso si lavora su tutto, cerchiamo di lavorare tutto anche se non si può prevedere tutto l'ho detto sempre anche in altre occasioni, il calcio è uno sport di situazione, è pieno di variabili e nessuno al mondo, vi assicuro, può lavorare su tutte le variabili io non posso prevedere quello che succede in campo ma sicuramente stiamo lavorando per migliorare anche l'attenzione l'attenzione è tutto, anche l'attenzione alle scarpe con cui si gioca perché i tacchetti su questo campo sono fondamentali, faccio un esempio e quindi bisogna avere attenzione nei minimi particolari e soltanto questo fa la differenza poi tra vincere e perdere è l'attenzione nei particolari e in questo momento noi nei particolari siamo un pochino carenti per esperienza, per gioventù, per partite fatte in campo e stiamo lavorando e devo dire che in campo c'è anche l'avversario e se di volte l'avversario è bravo a bloccare le fonti di gioco molto probabilmente siamo costretti ma tutte le squadre del mondo sono costrette a fare un gioco chiamato il gioco diretto quindi gioco sulle punte diretto e non c'è niente da offendersi se non riusciamo a giocare noi vogliamo giocare ma poi in campo se gli avversari non ci impediscono di giocare oppure c'è scarsa pena in quel momento del calciatore che non riesce a giocare per miliardi di motivi quindi magari per il fattore psicologico comunque noi vogliamo giocare non dimentichiamoci che l'Italia ha vinto i mondiali del 96 mettendo la palla di Materazzi su Toni e il capello ci ha vinto sbagliati scudetti quindi non è un delitto delle volte se le squadre non ci fanno giocare usiamo la tattica del contropressing Mister, arriva questa partita con la Paganese una squadra assetata di punti non sarà facile però l'Ascoli visto col Barletta ci lascia ben sperare a livello di squadra diciamo che è una squadra molto simile a Barletta poi è un campo abbastanza caldo è una squadra che gioca comunque al calcio con giovani interessanti e qualche anziano d'esperienza però ripeto noi andremo a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto sperando di vedere qualche miglioramento e soprattutto cercando di portare a casa un risultato positivo Tatticamente come la affronteremo questa gara? Provato in settimana la difesa 3 anche se lei rimane un fautore dello schieramento a 4 Io sono dell'idea che comunque durante la settimana e soprattutto in un momento dove io manco due settimane per squalifica credo che la squadra se mi sono soffermato anche a provare qualcosa di diverso per dargli un'impronta e casomai durante la partita cambiare però credo che noi giocheremo sempre con la difesa a 4 sempre nella giusta maniera perché comunque è giusto dare alla squadra delle certezze è normale che poi ci vogliono delle accortezze durante la partita che ti permettono comunque di poter migliorare o sistemare delle situazioni che in quel momento non vanno bene quindi penso che giocheremo con la difesa a 4 e poi vedremo o 4-4-2 o 4-3-3 Rosania come sta e in generale come stanno gli altri ragazzi dal punto di vista fisico? Rosania sta a livello fisico e sta recuperando è normale che siccome già aveva avuto un problemino e abbiamo perso qualche giorno in questo momento vogliamo anche aspettare qualche giorno in più per cercarlo di recuperare definitivamente abbiamo poi Annine che sta poco bene ma speriamo di recuperare anche perché credo che sia una cosa di un tendine non a livello muscolare ripeto faremo la conta manca qualcun altro però ecco faremo la conta partiremo e poi 11 sicuramente andranno in campo quella è la cosa essenziale Che idea si è fatta di questo falserano e tatticamente come intende utilizzarlo perché può ricoprire più ruoli? Allora per ieri per dirti in un 3-5-2 l'ho messo mezzala del 3-5-2 è una cosa impossibile io l'ho fatto solamente perché comunque gli voglio far acquistare quella cattiveria soprattutto quel minutaggio che gli permette in mezzo al campo di correre però lui credo che abbia delle caratteristiche d'esterno in un 4-3-3 o in un 4-4-2 sempre come esterno o addirittura qualche volta come seconda punta diciamo che ha delle caratteristiche come Tripoli forse con lui un po' più potente Tripoli un po' più agile però sono due giocatori che si assomigliano molto e che se sono in giornata possono mettere in difficoltà lui ha un'autonomia minima in questo momento e che comunque si allena con noi da una settimana quindi bisogna capire se farlo giocare dall'inizio o casomai se rischiarlo rischiarlo durante la partita perché comunque non vorrei perdere soprattutto non vorrei dargli delle responsabilità che in questo momento per lui sono abbastanza grandi anche se c'è tanta voglia di mettersi in mostra Davanti Malatesta e Vignaduzzo partono alla pari il primo si è dato tanto da fare contro il Barletta però non sembra al momento avere un grande feeling con il gol e con la porta Guarda, io anche durante la settimana ho pensato anche diverse situazioni che potrebbero essere anche quelle di poter far giocare anche tutte e due qualche partita assieme dipende ecco dalla partita e dal tipo di squadra che affronteremo anche Vignaduzzo ha un problema al ginocchio di infiammazione perché comunque dobbiamo valutare quali sono le sue condizioni non è neanche escluso che possano giocare assieme o se no alternarsi durante una partita è normale che in questo momento l'allenatore deve fare delle scelte in base anche alla condizione fisica e soprattutto a come sta la squadra perché ricordiamoci che lavoriamo da un mese e 10 giorni 15 giorni assieme ma c'è gente che lavora da 20 giorni quindi qualche calo sotto l'aspetto fisico c'è qualche cosa che va recuperata quindi devi essere accorto soprattutto nel fare le scelte equilibrare tutto il sistema di gioco Lei dopo il Barletta ha lanciato questa sorta di proclama l'Ascoli punta ai primi nove posti potrebbe essere proprio la sfida di Pagani il trampolino di laccio per raccorciare le distanze perché comunque è una squadra in difficoltà e l'Ascoli penso che vada in campagna per vincere quella gara Io credo che più che la partita di Pagani sia il campionato in se stessi il campionato di C è un campionato dove comunque all'inizio soprattutto le prime partite sono sempre quelle più difficili perché trovi delle squadre che ha iniziato in maniera più leggera va più forte poi il ritorno è fondamentale in un campionato come C perché ci sono quelle squadre che calano comunque l'esperienza e la caratura della squadra viene fuori quindi è un insieme di cose ma va visto alla lunga non in questo momento è normale che una vittoria potrebbe portare ecco quell'entusiasmo quella sotto all'aspetto dei tifosi della gente il venire allo stadio ma poi alla fine credo che la gente se viene allo stadio e si rende conto che comunque la squadra ha dei margini di miglioramento può crescere e sarebbe troppo facile partire adesso forti e poi alla fine non arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati noi dobbiamo dare continuità nei risultati ma dobbiamo vedere ecco alla lunga qual è il nostro obiettivo che ripeto per noi sarebbe quello di arrivare nei play-off e giocarci ecco però ripeto sempre con la giusta umiltà e nella consapevolezza che comunque dobbiamo crescere ci dobbiamo migliorare abbiamo bisogno di lavoro e tempo come ha lavorato in settimana sulla testa di Cappesce? sulla testa di Cappesce ieri l'ho messo anche difensore centrale io allora il problema è uno solo e mi sembra giusto chiarirlo io Cappesce che va a tirare il rigore posso anche accettarlo non è il rigore in se stesso che comunque può cambiare l'idea mia su Cappesce o l'idea di un altro su Cappesce però ci sono delle situazioni che vanno diciamo che mi faccio un'autocolpa probabilmente se fossi stato in panchina poteva cambiare qualcosa ma non si vede che doveva andare così c'è stata la benemolenza di Tripoli può essere che anche Tripoli non se la sentiva Cappesce se l'è sentita comunque da una parte ci può essere una cosa negativa che ha sbagliato il rigore la parte positiva che si è presa la responsabilità quindi il ragazzo va capito poi è normale che viene da una situazione vecchia che in questo momento ecco a lui però va recuperato comunque è un giocatore dell'asco se lui merita gioca se non merita non gioca ma così come tanti altri giocatori ripeto qua comunque le regole vanno rispettate e vanno fatte quello che le dice l'allenatore in quel caso probabilmente c'è stata grande disponibilità ma si è si è accettata proprio poco la regola ecco questo non va bene e dobbiamo migliorarci in questo ecco grazie a tutti Grazie a tutti